Ciao a tutti, oggi recensione letteraria. Parleremo di un libro estremamente discusso sin dai tempi della sua uscita, è uscito sul finire dell'anno scorso, ma il trionfo al premio strega ha riportato in auge la discussione a riguardo e sto parlando di Le otto montagne di Paolo Cognetti, edito in Audi ed è il primo romanzo di un autore finora specializzato nei racconti brevi. I rimandi dell'autore sono chiarissimi, infatti Paolo Cognetti è un autore molto talentuoso, ha una prosa molto semplice ma allo stesso tempo elegante nella sua semplicità, che rimanda immediatamente ad autori di stampo americano, che sono chiaramente i suoi punti di riferimento, da Hemingway a Raymond Carver. Io con l'autore ho avuto, diciamo, inizialmente un incontro-scontro, perché avevo letto una sua raccolta di racconti, che era manuale per ragazzi di successo, che non mi aveva convinto appieno, perché mi sembrava dalla lettura una acerba emulazione di Carver, non lo so, l'avevo letto forse in un periodo sbagliato, però la discussione su questo libro, che inizialmente non sapevo se leggerò meno, proprio perché il primo approccio allo scrittore non mi aveva conquistato, la discussione tuttavia mi ha spinto finalmente nella lettura, con l'apice del premio strega, allora a quel punto ho detto leggiamolo, leggiamolo e capiamo di che si tratta, e sono piacevolmente sorpreso perché il libro mi è piaciuto. Comunque non è un mistero che Paolo Cognetti scriva bene, infatti più volte sono stato ammirato dalla capacità di essere semplice, essenziale, di usare le parole nei tempi e nei modi corretti, non ci sono mai dei fronzoli o delle parti in cui sembra che l'autore divaghi, è preciso nella sua struttura ma allo stesso tempo fluido. Diciamo che a livello narrativo il libro non è niente di sconvolgente, infatti è un libro che non va letto per la storia, secondo me, quanto più per l'insieme, perché la storia è di una semplicità proprio rasente la normalità per certi versi, ovvero un'amicizia virile, un'amicizia virile che dura trent'anni, dall'infanzia all'ingresso dell'adolescenza fino all'età adulta. Con la differenza però che i veri protagonisti di questo libro non sono affatto i due ragazzi, tutt'altro, il vero protagonista è il paesaggio, o meglio, la montagna. Montagna che è una tipologia di paesaggio al quale lo stesso scrittore è molto legato, anche dal punto di vista autobiografico, e che qui diventa il vero protagonista, ed è il protagonista più attivo. Ed è questa la cosa che mi ha affascinato del romanzo, non tanto le vicende degli umani, quanto la capacità con cui Cognetti riesce a tratteggiare e a infondere la vita nella montagna. Al di là dei termini tecnici, o comunque delle descrizioni molto dettagliate e precise degli ambienti montanari, è proprio la capacità di far intendere al lettore la forza della montagna, anche dal punto di vista decisionale. C'è un momento, verso la fine del romanzo, in cui c'è una valanga, una valanga innocua, che è presagio di qualcos'altro, ma una valanga molto innocua, che dà l'impressione quasi come se la montagna stesse agendo, per certi aspetti. La montagna crea dialogo, e questa cosa mi ha colpito a livello sorprendente. Oltretutto, un grande tema di questo romanzo è sicuramente il dialogo tra uomo e natura, che viene vissuto in modi diversi, ad esempio l'uomo che nasce in città e che torna alla natura, e l'uomo che nasce in montagna, quindi nella natura, e gli scontri tra questi due modi, scontri-incontri tra questi due modi di vivere. C'è anche una certa dimensione piuttosto, non dico sacrale, ma quasi sicuramente, perché anche se l'associazione dei termini montagna e sacra può rimandare a Jodorowsky, anche se Cognetti non ha per niente l'approccio di Jodorowsky, per esempio, ma ha un approccio decisamente più naturalista, più realista. Ma non mancano certi momenti in cui si sfiora la metafora, o quanto vero quando la vita e le sue conseguenze hanno un significato forte, possiedono un significato forte. Non c'è surrealismo, ma la vita che scorre, la vita che scorre nel paesaggio assume un migliaio di sfumature, di significati. Ed è sorprendente da questo punto di vista perché a livello narrativo succede poco, ma tutto ciò che succede è lì perché deve essere lì, no? E emoziona perché sulle ultime pagine tutte le emozioni che il lettore non credeva neanche di avere durante la lettura escono fuori. Ed è bellissimo da questo punto di vista il modo in cui Cognetti è riuscito a tratteggiare per 190 pagine una situazione che ovviamente ha dei cambi delle... una sua struttura e che infonde già nel lettore delle sensazioni che però esplodono, almeno dal mio punto di vista di lettore, nelle ultime pagine. È bellissima questa cosa, no? L'ho vissuta così io, la lettura. Ditemi se anche voi che l'avete letto... anche a voi che l'avete letto è capitato. Però dicevamo una... un'atmosfera sacrale, sin dal titolo Le otto montagne, che fa riferimento ad un passo specifico del libro in cui si parla di un viaggio e Le otto montagne fanno riferimento a un mandala. E quindi in realtà più che sacrale l'aspetto è proprio un aspetto di comunicazione. La comunicazione tra l'uomo e la montagna avviene attraverso le tipo... i modi di vivere in montagna, no? Attraverso i rituali. Di certi... certe attenzioni anche. La scelta banalmente di andare in certi sentieri e non percorrerne altri. È, in un certo senso, l'uomo che comunica con la montagna attraverso il proprio corpo e i propri passi. Oppure ancora il rituale... c'è questo rituale in cui viene... viene ucciso un camoscio. Che viene descritto proprio come un rituale vero e proprio. Come se appunto l'uomo attraverso questo rituale, che non è un rituale, però è descritto come un rituale, come se l'uomo stesse comunicando nel linguaggio della montagna, nel linguaggio della natura, sotto certi aspetti. Ed è bello, affascinante. E la cosa sorprendente è appunto il potere decisionale della montagna, che agisce e comunica. È molto bella, è una lettura che mi ha sorpreso. Sicuramente è un romanzo consistente, è un romanzo molto semplice, cosa non scontata soprattutto in tempi di provocazione o di sperimentazione, sotto certi versi. È un romanzo che torna alla tradizione. È molto tradizionalista, è una struttura, è un linguaggio molto classico, che appunto rimanda a grandi autori, soprattutto americani, e che potrebbe piacere quasi a tutti. È una lettura molto piacevole. Dal mio punto di vista non lo ritengo un capolavoro, ma sicuramente l'ho apprezzato. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. L'avete letto? Non l'avete letto? Se l'avete letto vi è piaciuto o no? Fatemelo sapere, io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e alla prossima. Ciao ciao!